Jasmine, la neonata nata lo scorso venerdì 19 gennaio nei pressi del casello autostradale di Orte in provincia di Viterbo aveva così tanta fretta di venire al mondo che ha scelto di nascere a bordo dell'ambulanza che trasportava sua madre in ospedale. La situazione insolita è stata affrontata con successo dai soccorritori e ha reso la nascita di Jasmine un momento unico e memorabile per la famiglia. La tempestività dell'evento accaduto in un luogo atipico come un'autoambulanza ha contribuito a rendere la storia della sua nascita un aneddoto sorprendente. Benvenuta al mondo Jasmine. A darne notizie e a raccontare la sua storia è la pagina Facebook di Ares 118 Lazio. Una richiesta di intervento per una donna incinta che lamentava forti dolori addominali è arrivata presso la centrale operativa Lazio Nord. Si legge nel post pubblicato su Facebook. Le acque si erano probabilmente già rotte ed era partito il travaglio. Su luogo della segnalazione all'indirizzo indicato è intervenuta l'ambulanza della postazione di Orte Petignano. A bordo, in servizio, pronto a dare assistenza, c'era il team sanitario composto da Eleonora, Emanuela e Franco. A presto, a presto, a presto, a presto, a presto. Grazie a tutti.